La presentazione della stagione di prosa non a caso si intitola Stagione Capitale, tantissimi gli appuntamenti. La presentazione è avvenuta questa mattina presso il Teatro Rossini di Pesaro che peraltro ospiterà tutte le opere di prosa della prossima stagione. Una stagione capitale, 10 appuntamenti, 40 serie di spettacolo, tanto divertimento, tanta riflessione, i protagonisti più grandi della scena italiana. Pesaro inizia a giocare le sue carte, lo fa creando una stagione in qualche modo XXL dove tanto divertimento da Virginia Raffaele, Drusilla Foer, Arturo Brachetti, tanti grandi artisti, tanti grandi registi, una stagione tutta da gustare che sicuramente sarà una delle attrazioni principali anche di questo anno in cui tutte le luci della nostra nazione saranno accese sulla nostra città. Tutto il Teatro Rossini finalmente riaperto dopo i lavori di ammodernamento e per renderlo ancora più bello e accogliente. Siamo sempre almeno le quattro repliche, quindi 40 appuntamenti di prosa in questo caso, un abbrivio tra il 23 e il 24 che quindi come si diceva crea le condizioni per il clima migliore per la capitale 24 e la inizia, la inaugura fondamentalmente con la residenza di allestimento di Virginia Raffaele a gennaio. E quindi insomma il teatro che svolge il suo ruolo protagonista nella stagione della capitale italiana come luogo innanzitutto restituito non solo la sala pubblica dove siamo oggi ma anche il ritorno completo alla funzionalità del teatro che quindi insomma sarà uno dei migliori regali per i pesaresi e anche per tutti quelli che lo scopriranno.